Una partita, un altro appuntamento di sport presso la casa circondariale di Crotone, tra alcuni ospiti della casa di detenzione e una selezione di consiglieri comunali e assessori. Dai reati alle reti, il titolo del progetto voluto da Libera Crotone, associazioni nomi e numeri contro le mafie, Lega Nazionale di Lettanti Crotone e AIA, associazioni italiane arbitri, a vincere la squadra degli ospiti della casa circondariale con ben 4 gol. La Pioggia non ha fermato questo atteso appuntamento? Eh sì, in effetti neanche la Pioggia ci ha fermati perché avevano tutti desiderosi e vogliosi di fare la terza partita di amichevole contro, in questo caso contro il Comune di Crotone, quindi nemmeno la Pioggia ci ha fermati e loro sono contentissimi di essere qui anche sotto la poesia. E una casa circondariale che si apre insomma sempre di più all'esterno? E infatti noi abbiamo aderito a un progetto di Libera, dell'associazione Libera di Crotone il nostro progetto è quello di entrare nella casa circondariale con i nostri tecnici specializzati e fare diciamo così degli allenamenti settimanali, siamo all'interno della casa circondariale già da luglio, abbiamo già fatto tre incontri ufficiali di amichevoli e andiamo avanti con questo progetto con l'intenzione di cercare di far redimere questi ragazzi una volta usciti da questo contesto brutto. E poi c'è sempre questo prezioso contributo dell'AIA, ma io inizierei così, partita bagnata, partita fortunata. Sì, buongiorno, per noi diciamo una partita bagnata o partita con il sole fa poco differenza, settimanalmente siamo sempre in campo a svolgere il nostro dovere. Partita fortunata sì, perché sono quelle gare queste che ti riempiono soprattutto d'orgoglio, ti fanno stare bene indubbiamente. Cosa si augura l'AIA insomma per questo 2024, non solo regole e campionati, ma anche il contatto stretto con il territorio, con la società civile? Diciamo che da sempre l'associazione italiana arbitri è insediata nel territorio, in questo contesto particolare con il Presidente Livadotti e grazie anche all'autorizzazione del Presidente regionale Franco Longo abbiamo sponsorizzato subito questa iniziativa, perché sono quelle iniziative a cui onestamente non si può dire di no. E l'arbitro è parte fondamentale, integrante di questi progetti, anche perché non esisterebbe gara senza arbitro. Che significato assume allora per l'ente comunale, per il Consiglio Comunale, oggi essere qui rappresentanza della città? È un grande significato soprattutto di valore umano e di socializzazione, perché chi ha avuto il merito di organizzare questa iniziativa libera, la Federazione Centro di Angiococalcio e le amministrazioni sia penitenziariche che comunali, è quella di socializzare soprattutto con i detenuti della casa circondariale. È una giornata per loro di festa, per noi soprattutto di stare vicini e di misurarsi nella vita e di quando finiscono di aspettare la loro pena, di capire che la vita è fatta di cose belle, che naturalmente si può sbagliare, si può migliorare tanto e molto nella vita. Insomma, prima di essere qui vi è stato allenamento? No, assolutamente. Cerchiamo di non lasciare nulla al caso, nel senso che le cose che facciamo le facciamo bene, perché comunque è un progetto sia tecnico che formativo, quindi tutti e due gli elementi devono viaggiare insieme, ma non solo qui, in tutti i campi si deve cercare di crescere sotto il profilo tecnico, ma anche umano ed educativo. Cosa rappresenta per voi questa partita? Per noi questa partita rappresenta uno dei momenti previsti nel progetto, in cui non solo ci sono degli allenamenti, ma anche dei momenti di confronto con altre squadre, sparando poi in futuro di poter partecipare a un campionato ufficiale. Insomma, la pioggia insiste, ma come sta andando questo match? Il match sta andando bene, credo che oggi è una giornata di sano sport, e anche in prossimità delle feste, quindi per noi il modo migliore era questo di farlo insieme alla compagine politica, in modo che si crea una rete e che al di là del campo si possa poi offrire una possibilità di reinserimento per questi ragazzi, quindi iniziare qui e poi possibilmente continuare dopo.